Stanno per concludersi i festeggiamenti per il centenario degli alpini pavesi che hanno tenuto impegnate le penne nere per quasi un anno fra iniziative culturali, mostre fotografiche e incontri nelle scuole della provincia. Dopo la presentazione del libro curato dalla responsabile del centro studi della sezione pavese Giacomo Casarino e dall'ex presidente Carlo Gatti, tenutasi al collegio Ghislieri, è atteso il clou nel weekend con le manifestazioni di San Martino Siccomario sabato 18 e con la sfilata per le vie di Pavia, quando in città è atteso l'arrivo di centinaia di penne nere da varie sezioni d'Italia. Finalmente ci siamo, siamo arrivati, sabato 18 e domenica 19 ci sarà il nostro centenario della fondazione del corpo degli alpini di Pavia. Le giornate appunto sono due, sabato nel pomeriggio alle 16 ci sarà una manifestazione di San Martino Siccomario per ricordare la consegna della bandiera italiana al Regno Sabaudo. Mentre la vera giornata è quella di domenica, domenica 19 alle ore 10 con l'alza bandiera inizierà la nostra manifestazione. Ci sarà una consegna di una bandiera al campo scuola dei ragazzi della nostra sezione, poi la sfilata si snuderà dal ponte coperto per le vie di Pavia. Percorreremo strada nuova, ci fermeremo in Piazza Italia per un onore ai caduti, per poi proseguire sino al castello Visconteo per le locuzioni e poi lì ci sarà il nostro scioglimento.